Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source edizione riassunto della settimana con tutte quante le notizie che sono state postate sul blog durante la settimana da me e dei miei amici cominciamo con la prima notizia, cominciamo a parlare di Manjaro, la famosa derivata di Arc Linux che tanto sta avendo successo nell'ultimo anno perché il team è un team molto attivo, molto vivo che cerca sempre di introdurre novità, di rilascio e rilascio è stato rilasciato GroupDate Pack 6, questo nuovo aggiornamento va ad introdurre principalmente due cose GNOME 3.12 per la versione con GNOME e KDE 4.13 per la versione con KDE aggiornato poi Xorg alla serie 1.15 per migliorare il supporto all'ultima versione dei driver Catalyst Firefox portata alla versione 29.x Thunderbird alla 24.5 introdotto LibreOffice 4.2.4 Calligra 2.8.2 e sono stati fatti alcuni miglioramenti per quanto riguarda Octopi l'aggiornamento seguita le istruzioni che trovate sul blog per effettuare l'update notizia poi sempre di Manjaro che il team sta lavorando a un restyling diciamo così della ISO con XFSE che nelle prossime versioni sarà epurata di tutte quante quelle applicazioni GNOME centriche quindi vogliono realizzare diciamo così una variante la main edition con XFSE è pura se così si può dire passiamo adesso invece ai rilasci è stata rilasciata la nuova versione di SilentOS SilentOS che cos'è? una distribuzione made in Puglia che è basata su Ubuntu che utilizza OpenBox come desktop environment questa nuova versione è particolarmente indicata per tutti quanti cioè meglio questa distribuzione è particolarmente indicata per tutti quanti quei PC datati che hanno processori che non sono l'ultimo grido e cose del genere questa nuova versione non cambia molto rispetto alle versioni passate di SilentOS se non appunto la base che è adesso Ubuntu 14.04 viene rilasciata in due edizioni la versione full e la versione light che cambiano con praticamente le applicazioni default che vengono installate quindi non c'è tanta differenza tra le due release a seconda di quello che volete visto che vi trovate scaricate la versione full e buonanotte suonatore Rodrigo ha poi realizzato una prova su strada di 0 a D alfa 16, nome in codice Patanjali Andrea mi picchiera per la pronuncia di costui che cos'è? questo qui è un gioco in stile Age of Vampire molto bello, molto interessante sviluppato completamente open source è offerto gratuitamente e Rodrigo ci ha fatto una piccola recensione su questa nuova versione che a parer suo è notevolmente migliorata notizione della settimana che ho fatto discutere tantissimo è stata la notizia che arriva dalla Cina secondo la quale tutti i PC governativi che verranno acquistati da ora in poi saranno tutti i PC senza Windows 8 la Cina ha deciso che tutti i PC governativi tutti quanti gli apparecchi tecnologici destinati all'uso governativo non dovranno avere Windows 8 la notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale degli enti cinese che si occupa degli appalti pubblici e stranamente non si capisce ancora perché rientra in una particolare direttiva che per quanto riguarda il risparmio energetico dove appunto al punto 5 di questa direttiva è specificato che il divido di Instagram è il sistema operativo Windows 8 secondo però l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua questa direttiva è stata emanata al fine di garantire la sicurezza informatica dopo che Microsoft come ben sapete ha terminato forzatamente il supporto a Windows XP che era ancora allargamente utilizzato si parla del 70% praticamente in Cina oltre, cioè percentuali diciamo simili anche nel resto del mondo visto che XP continua a resistere sui PC nonostante sia stato decretato il termine di supporto dal canto suo Microsoft fa sapere che continuerà a proporre Windows 7 e cercherà di dialogare con gli enti governativi cinesi per trovare delle soluzioni anche per appopinare Windows 8 diciamoci quello che pensiamo tutti quanti è che questa mossa della Cina sia fatta principalmente per due motivi il primo motivo è per avere un'indipendenza tecnologica quindi non essere più legati a un sistema operativo straniero che può avere backdoor può avere strumenti atti a effettuare tra virgolette uno spinonaggio e cose del genere altresì c'è da dire che la Cina sta cercando di sviluppare un sistema operativo Linux nazionale Ubuntu Kine è l'esempio che praticamente è una versione di Ubuntu pensata per il mercato cinese che però viene sviluppata con un team di Canonical che lavora a stretto contatto con gli enti governativi, con le università e quant'altro per poter appunto fornire questo sistema operativo questa versione di Ubuntu specifica per il territorio cinese con tutti quanti i servizi noi comunque speriamo che la Cina sia la propista per quanto riguarda le nazioni culminate che decidono di abbandonare Windows in funzione di Linux vedremo come si evolverà nel corso dei prossimi mesi la situazione anche se ci saranno pressioni e quant'altro per poter ritornare sui propri passi vedremo soprattutto che cosa farà la Cina per implementare maggiormente il sistema operativo Linux nazionale in settimana poi è stata rilasciata la nuova ISO di Chakra Chakra la derivata anche in questo caso di Archlinux che però poi si è praticamente si è discostata quasi completamente dalla distro madre Chakra 2014.05 non è in coge The Scars anche in questo caso perdonatemi per la pronuncia orribile main, raise? No diciamo più che altro che una minor raise che va ad aggiornare praticamente il KDE alla versione 4.13.x tutti quanti i successivi sviluppi quindi The Scars seguirà l'andamento della 4.13 novità principale se così possiamo dire quella che salta subito all'occhio è che ha un nuovo artwork chiamato Sirius che è stato realizzato da Malser che lo ricordiamo per il tema Caledonia poi le altre novità praticamente sono un aggiornamento degli strumenti di Chakra Tools Catalyst NVIDIA e i driver aggiornati le ultime versioni o quasi kernel 3.12.15 Octopi Systemd 2.12 Xorg è rimasta la 1.14.5 e sono stati aggiunti dei tool KCM Pacman RepoEdit che praticamente ci consente di editare i repository di Pacman tramite le impostazioni di sistema AboutDistro che ci vuole sommare della distro quindi non servono praticamente un cacchio KAP che è uno strumento di backup incrementale se volete scaricarla potete trovare all'interno del post il link per poter trovare naturalmente vi ricordo che è soltanto a 64 bit quindi io faccio ciò che ora la mattina e non lo proverò più Libri, consigli per la lettura vi ho postato in settimana un piccolo link a Lockdown, l'imminente guerra civile per il computer universale è un ebook gratuito scritto da Cory Doctor che senz'atto voi conoscerete in questo ebook sono tenuti i discorsi tenuti spatti da Cory Doctor in merito al concetto di computer universale e l'importanza di questo nella vita di tutti i giorni e di come ci sta continuamente attentando alla vita di computer universale per poter regarci ad altri tipi di strumenti gli ebook sono scaricabili gratuitamente grazie ad Apogeo li trovate sia nella versione EPUB che nella versione MOBI che lo trovate addirittura nel Play Store quindi andate nel Play Store cercate il libro oppure cliccate sul link che vi ho messo e ve lo scaricate così ve lo potete leggere quanto volete è stata rilasciata poi una ISO non ufficiale di Fedora con Plasma Next e KDE Framework 5 questa ISO non ufficiale soltanto a 64 bit e anche in questo caso faccio cercare con la manina perchè non la posso provare appunto contiene la prossima versione di Plasma di KDE in sviluppo e tutto questo è stato reso possibile grazie al lavoro degli sviluppatori che hanno messo su Coopr un repository che potete anche utilizzare su Fedora Normale che consente di aggiornare a questa versione altra notizia della settimana sempre parlando di rilasci è stata rilasciata la prima release candidate di Netrunner 14 nome in codice Frontier Netrunner la distribuzione che è basata su kubuntu questa volta su kubuntu 14.04 lts novità praticamente quasi nessuna è una kubuntu con alcune impostazioni modificate con una scelta di pacchetti diverse e con appunto alcune impostazioni modificate all'interno delle impostazioni sistemi e cose del genere grandi novità se di questo riascio per adesso non ce ne sono quindi non ci sono nuovi tutu nuovi plasmoidi e cose del genere come era successo con il precedente riascio che erano stati introdotti nuovi plasmoidi e cose del genere segnatevi poi la data del 30 maggio se siete in quel di Milano o zonerimito perché si svolgerà il primo OpenStack Day Italiano quest'evento è organizzato da Enter ci saranno tantissimi speaker di aziende internazionali e nazionali che parteciperanno solo per citare alcuni ci sarà Canonica ci sarà EnterCodeSit ci sarà Gar HP Rackspace Red Hat Shuse Wimb il link will 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 andate a vedere praticamente come si svolgerà l'evento sarà una convention il costo di ingresso è di 29 euro ed oltre alla conferenza e workshop ci sarà una colazione pranzo e coffee break quindi avrete anche da mangiare trovate poi indicazioni sul blog sulla location sul programma dettagliato dell'evento se siete in zona fateci un pensiero perché secondo me è un'importante occasione per tutti quanti gli appassionati cloud computer in generale di OpenStack che potranno trovare panni pericolodenti ultime due notizie della settimana decima puntata di Marcosbox IO anche in questo caso la nuova rubrica di Stefano che praticamente raccoglie tutte quante le notizie che non possono avere uno spazio dedicato su Marcosbox perchè magari non sono strettamente che del mondo Linux e quant'altro ha pubblicato alcune cose tipo OpenPolice che era lo strumento che serve per vedere dove siete collocati dal punto di vista delle elezioni europee quale partita siete più vicino quindi se siete indecisi andate là e vedete per chi cavolo dovete votare i pinguini adesso potranno giocare a The Witcher 2 entro l'anno e dentro l'anno la reedizione di Metro 2033 tanti nuovi titoli quindi per Linux quindi bava la bocca una notizia interessante diciamo così la stampa delle armi 3D da fuoco è sempre più avanzata praticamente adesso sono stati realizzati nuovi prodotti di nuove armi che sono state sempre più perfezionate grazie appunto alla stampata di vi potete stampare diciamo così la vostra arma letale in casa e è bestiale come si sta rivolgendo la situazione perché il progetto viene sempre più perfezionato da utenti pazzoidi che che migliorano questi questi prototipi andatevi comunque a leggere tutte quante le notizie della io perché se non è inutile che le leggo tutte quante se no poi non leggete il post ultima notizia della settimana è che Firefox sta lavorando per raggiungere la funzionalità di traduzione pagina all'interno del browser una funzionalità nativa come accade con con Google Chrome cioè quella funzionalità non so se avete visto che quando andate su una pagina che viene in inglese tedesco giapponese aramaico vi propone la traduzione della possibilità di tradurre la pagina nella vostra nella vostra lingua questa nuova funzionalità che è stata annunciata a febbraio è ancora work in progress non è presente in nessuna nightly compagnia belle quindi è una cosa soltanto per i sviluppatori attualmente sono poche le lingue supportate si parla di inglese tedesco spagnolo giapponese russo italiano e francese stranamente c'è l'italiano eh non sarà basata cosa importante su Google translator perché Google ha deciso di farsi pagare l'accesso alle api quindi non si sa ancora che cosa utilizzare molto probabilmente un servizio di traduzione della concurrenza di Google perché non penso che faranno una cosa tutta fatta in casa perché sarebbe folia diciamo così ottima notizia anche se si sta sempre più cromizzando Firefox anche se questa funzionalità era richiesta a gran voce ed è interessante bene con questo concluso sono 15 minuti come al solito mi dilungo troppo lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana salvo qualche video infrasettimanale ciao ciao ciao